Siamo stati attenti, siamo stati pazienti, concedendo poco e non facendoci mai prendere né dal nervosismo ma principalmente da momenti in cui anche il Lanciano ha veramente spinto e corso in maniera veramente importante. Abbiamo saputo rimanere sempre lucidi e compatti e questa è sicuramente una crescita positiva. Sono contento ma principalmente perché era una partita complicata, difficile e c'erano in palio dei punti pesantissimi sia per noi che per loro. Poi tutto il resto fa parte della nostra professione e io come avete visto sono stato in campo a testa alta perché non ho nessuna, sono solo sereno nel tornare in quella città. Incontriamo una squadra pericolosa, una squadra difficile, è una partita che ci vuole attenzione, nervi saldi, determinazione, ci vogliono tutte quelle componenti che occorrono nel fine campionato dove devi avere un atteggiamento lucido, sia equilibrato, è una convinzione e condizione psicofisica importante. Sì, rientra Cosenza, ma io al di là di chi manca devo dire che è una squadra che bisogna stare molto attenti sulle palle inattive, hanno qualche giocatore che è molto bravo, Rolando che calcia benissimo le punizioni e comunque è una squadra che sta bene, sta in salute, io ho visto la partita con Latina però giusta attenzione, giusto rispetto, no, ritorniamo in casa nostra, io dico questo perché noi qualche testata l'abbiamo già battuta e ci ha fatto anche molto male, adesso dobbiamo interpretare bene la partita. Io credo che ognuno di noi ha un sogno, i sogni sono la cosa più bella che c'è e vanno anche saputi liberare i sogni però per farli diventare realtà c'è del mezzo tanto lavoro, determinazione, voglia e le cose non arrivano se non le vai a prendere, quindi preferisco che ce le andiamo a prendere che non dirle.